allora io vorrei fare un passo indietro e tornare alla piena stagione ve lo aspettavate il successo il riscontro anche di audience che ha avuto la prima stagione di con Giorgio Romano no io no perché comunque è una serie difficile da accettare per le tematiche invece probabilmente anzi la gente ha bisogno di avvicinarsi ad alcune tematiche sì in effetti era molto difficile secondo me anche la programmazione la pubblicità cercare di nascondere questo cioè nascondere diciamo che sembra quasi la parte principale mentre invece la cosa più importante in quella serie poi a un certo punto si è capito che era la famiglia che era il rapporto appunto che nonostante ci fosse un dramma in famiglia la famiglia continuasse a vivere a sperare e a aspettare che qualcosa accadesse come è stata l'atmosfera sulla seconda stagione? C'è stata la pressione visto i numeri della prima oppure no? no dai no cioè sapevamo che in qualche modo poteva solo andare meglio perché comunque la storia si stava aprendo e quindi ci siamo siamo divertiti non abbiamo mai avuto quella pressione no pressione no poi è sempre una questione di coincidenze no cioè le serie spesse volte devono avere una buona programmazione devono avere un buon posizionamento e ci sono devono uscire al momento giusto e ci devono essere anche i presupposti sul copione sulla storia erano molto buoni tutti i personaggi erano veramente spiegati e raccontati benissimo quindi su quello eravamo molto sicuri adesso vediamo il fado quanto c'è di vostro invece nei personaggi? quanto c'è di Raul e Maria Chiara? quanto c'è di Raul in tempo? in me c'è molto Raul no di Maria Chiara poco in Anna poco perché è stato un personaggio molto difficile io non sono mamma di quattro figli anche il tipo di malattia che affronta voglio dire quindi sono andata veramente su tanti tipi di ricerche diversi cercando di inglobare ovvio che anche il temperamento di Anna non è non è mio per niente forse l'unica cosa ho accentuato un po' che su alcune cose sono un po' rigorosa con Anna le ho un pochettino rese ancora più rigorose si che comunque viene da una famiglia dalla quale lei si vuole spostare però che è molto rigida però in generale è poco ho dovuto fare un patchwork di varie cose un? patchwork ah you know? yeah no ci riprendiamo in giro perché questa cioè viene dal lago di Bracciano esatto e poi dici patchwork vabbè patchwork va bene uguale? un misto un misto scherziamo e di tuo quanto c'è a parte la nuotata nel lago? eh 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 di mio pensavo di 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 no di mio il rapporto con quattro figli è diciamo simile ma anche se personalmente un po' diverso perché sono due maschi più grandi due femmine più piccole e niente Guido è un bel personaggio nel senso che alcune molte preferisce cioè si assume una responsabilità molto forte molto grande da una dimostrazione d'amore molto importante e più che reagire è uno che aspetta cioè pensa cerca di trovare la soluzione per i figli ha un grande amore sia per la la moglie che per i figli perché comunque invece di rispondere invece di affermare il se stesso il suo ego tende più a considerare la situazione in cui sono i figli quindi a giustificarli e a non reagire prima parlavate dei segreti del segreto del successo della prima stagione può una serie televisiva aiutare comunque una persona anche tu parlavi di amore prima di stare uniti davanti al dolore può nel piccolo quando io ho preparato Anna per quest'anno mi sono sono entrata in contatto con delle persone che sono svegliate dal coma e mi sono resa conto che la nostra è comunque una serie qualche modo che non rispecchia la realtà fisica ma è favolistica io l'ho spiegato a loro che risveglio come succederà noi bruciamo dei tempi delle cose che magari non succedono realmente ma per loro non era un problema perché mi hanno detto purché se ne parli cioè e questa cosa mi ha rincuorato tantissimo perché c'è una necessità una voglia di parlare in generale di questa forma di malattia ma soprattutto delle persone che affrontano che sono intorno sì quindi se nel piccolo riusciamo a parlare di questa cosa anche in modo favolistico però si capisce quello che vogliamo raccontare quello fa e in più credo tutti i rapporti familiari che vogliamo raccontare anche le risate che quest'anno si fanno un po' più di risate soprattutto sui figli sì è utile secondo me in qualche modo anche tu sei della stessa opinione ah sì perché poi ognuno rivede una parte una parte di se stesso cioè spesse volte nelle fiction o nei film non tutti hanno la stessa percezione del film non a caso se tu fai un sondaggio a alcune persone piace un film alcuni colpiscono alcune scene alcuni colpiscono colpisce un'altra scena dipende sempre da da chi guarda il film e che cosa ha di cui ha bisogno poi vero o non vero ci sono delle cose che inconsciamente ti entrano più dentro e ti affezione ad una serie proprio perché comunque ti senti di avere lo stesso tipo di problema o lo stesso o aver avuto in passato e riesci a capirla quella serie ti risulta più facile qua ci sono tante situazioni in cui la gente ci si rispecchia e forse questo è il segreto della prima per chiudere l'ultima domanda brevemente che tipo di spettatori siete invece voi davanti alla tv? onnivori tutto si tutto tutto ho anche imparato a spegnere quando non mi piace una cosa perché il tempo è prezioso e quindi posso vederne una più bella però tutto 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 beh io diciamo più lato cartone animati sono fortissimo si si poi quando arriva il momento che posso guardare qualcosa di mio insomma arriva ma addormento grazie a te grazie